Amici tecnologici, oggi si parla di un Honor bellissimo, l'Honor 200, guardate qua che bellezza con questa back cover, con una nuova tecnologia di realizzazione, poi ve ne parlo meglio del video, e poi un super display AMOLED a 120 Hz, tutto curvato sui bordi, e poi doti fotografiche eccezionali, teleobiettivo, grande angolare, super batteria anch'essa realizzata con una tecnologia nuova, quindi dura anche di più della media. Prima di tutto però devo ringraziare una persona, Ivan, caro Ivan, grazie per aver permesso questa recensione sul canale, e quindi a tutti voi vi dico, mettetevi comodi, si parte con la recensione completa di Honor 200. Confezione di ventità dell'Honor 200, l'abbiamo già vista nell'unboxing, una spilettina e oltre alla manualistica un cavo di ricarica, non c'è l'alimentatore, non c'è la cover, la pellicola è pre-applicata sul display. Bello, 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 perché? Perché è curvo leggermente, dico leggermente, non è il classico Edge che dà fastidio ad alcuni, curvo leggermente su tutti e quattro i lati, quindi si impugna bene, è curvo anche leggermente sulla parte posteriore. Questo alveare ovale di fotocamere può piacere o non piacere, vi dico che questo posteriore, che in controluce dà un effetto tridimensionale, effetto marmo ed è un vetro bellissimo, termine tecnico, vetro allumino silicato. Detto in parole povere, vado semplicemente a fare una ricerca online e dico che è meno soggetto ai graffi, più resistente agli urti, quindi, diciamo in soldoni, resiste di più alle botte. Abbiamo l'audio stereo, quindi la parte alta e la parte bassa emettono suoni, l'ingresso per la sim, ovviamente telefono 5G, quindi super connettività. Caratteristiche tecniche, Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM e più 12 virtuali, quindi 24 potenziali, 512 GB non espandibili di archiviazione, ovviamente Android 14 a bordo. Frequenza di aggiornamento 120 Hz, 60 o dinamica e attenzione di honor allo sforzo del vostro occhio, quindi sia l'ottimizzazione dei video, sia la possibilità di regolare automaticamente la temperatura del display, protezione degli occhi, molto quindi fatta bene. Lui ovviamente si sblocca con il volto o con l'impronta digitale e come avete visto sulla serie Galaxy S24, l'always on display è, diciamo, differenziato in due categorie. L'always on display classico, quello praticamente nero, che vi fa solo vedere l'orario, e l'always on display che lascia trasparire l'immagine, quella sottostante. Quindi un always on display in questo modo qua, non completamente nero. Tra l'altro uno sblocco con l'impronta che offre animazioni diverse, molto carine. E anche nel reparto multimediale spacchiamo di brutto, 50 megapixel stabilizzata otticamente, altri 50 teleobiettivo stabilizzato otticamente, 12 con autofocus grandangolare. Cosa vogliamo di più? Allora, dai, si parte con tutta la selezione di social, quindi andiamo anche a commentare la tastiera. Non mi fa impazzire la tastiera di Huawei, comunque si digita bene una volta fatta l'abitudine. La vibrazione è ok, non mi dà fastidio, non è zanzarosa. E con questo vi faccio vedere anche il multitasking, che avviene in maniera molto bella, molto dinamica, molto fluida. Fluida ve lo riscrivo e quindi questa è la parte relativa a Facebook. Andiamo anche sulla parte di Instagram, dove vi dico venite a trovarmi. Chasti Tech, ancora se non l'avete fatto, cosa state aspettando? Facciamolo crescere questo profilo, perché siamo in tanti su Facebook, siamo in tanti su YouTube, ma Instagram deve crescere. Mi raccomando, venite a trovarmi. Perché ci sono tanti telefoni, tanti reel, tante immagini, scatti, che magari non avete proprio mai visto. Telefoni che dite, boh, che cosa sarà mai? E questi sono i reel che vengono visualizzati in tempi record, tutti molto fluidi, tutti molto belli. Allora andiamo a vedere anche la Repubblica, versione desktop. Dai, facciamolo frullare un po' questo Snapdragon 7 Gen 3. Subito, pinch, guardate come va veloce questo smartphone che ha già caricato, o meglio quasi. Per ribadire cosa? Che lui va veloce, Snapdragon 7 Gen 3, non è uno Snapdragon 8 Gen 3? Sì, è ovvio, però per l'uso quotidiano lui non avrà mai, mai alcun tipo di problema. E tra l'altro Honor ci vizia anche con una parte dedicata all'intelligenza artificiale, quindi lo troviamo qui nell'assistente, troviamo sia i suggerimenti AI, sia il testo magico. I suggerimenti sono su questa parte qua, è una cartella che ci dice, che ci suggerisce cosa utilizzare in base a quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Magic test, quindi possiamo andare a estrarre da un testo un qualcosa che ci può servire, possiamo andare a salvarlo e archiviarlo. E il portale magico, quindi possiamo andare a toccare, tener premuto per andare a salvare. Per esempio, se vado sulla Repubblica, guardate in concreto questo portale magico, quante possibilità mi dà, quindi lo posso condividere subito su Facebook, su Telegram, inviarlo via mail, condividerlo su WhatsApp oppure metterlo nello spazio dei preferiti. Per il resto fluidità veramente ottima, ho apprezzato tanto il fatto che le cartelle possono essere ingrandite, guardate che potenza questa cartella, bella grande, poi la possiamo anche regolare, guardate bello. Teoricamente potreste dividere un intero telefono in orizzontale, diviso per grandi categorie. Bello, secondo me veramente bello. Bello, e andiamo a parlare anche della ricezione. Super ricezione di questo Onno 200, prende ovunque, incredibile anche nelle zone più disagiate, lui prende. 5G, fantastico, funziona bene e non registra le telefonate, questo ve lo devo dire. Torno e chiudo il discorso della fluidità. Asphalt, che non è più Asphalt 8, ma cambia il nome. Asphalt Legends Unite. Andiamo a premere su gioca ragazzi e vediamo il tempo di apertura, la fluidità di questo nuovo giochino e nel frattempo punteggi di AnTuTu e Geekbench che sono veramente ottimi. E andiamo, 3, 2, 1, animazione pressoché perfetta. Si parte con l'accelerazione Super Display AMOLED 120Hz che non vi darà mai una preoccupazione. Non c'è un pixel sbavato, non c'è niente di cui preoccuparsi. Guardate qua come si gioca bene. Mai un lag, mai un'incertezza. Insomma, per il gaming Honor 200 va benissimo. E allora mi raggancio un po' al discorso anche della batteria. Perché lui ha una batteria da 5200 mAh, per ora ricarica a 100 Watt, ragazzi. Perché questa batteria al silicio carbonio ci porta grandi soddisfazioni. E ve lo faccio vedere subito. Sono andato a dormire alle 23.51, quindi ho chiuso la mia giornata col telefono piena, praticamente dalle 8 del mattino a mezzanotte. 4 ore e mezzo di schermo attivo ancora col 40%. Clamoroso. Cioè lui vi fa tranquillamente due giorni di utilizzo, 8 ore di schermo, 7 ore e mezzo. Bestiale questo Honor 200. Andiamo nella sezione musica e andiamo a ripescare un brano. Partiamo a bomba. E come potete notare, vi faccio vedere un dettaglio, si attiva l'audio al 200%. Mentre lo lancio, vi faccio vedere anche un'altra caratteristica dell'Honor, ovvero la Magic Capsula, la capsula magica. Lui sostanzialmente ricrea un po' la capsula di iPhone. Purtroppo questo vale solo per la parte audio, quindi o quando vi chiamano potete ridurre tutto a icona, o quando sentite un audio messaggio, o quando ascoltate proprio una canzone, e questo ne è l'esempio, vedete, potete comandare il tutto da qua. Sono sicuro invece che funzioni sul timer, perché impostando i miei classici 5 minuti, vedete partito, il timer, pum, ce lo fa vedere qua in questa sezione, e quindi possiamo mettere in pausa o stoppare il tutto. Tutto molto utile? Sì, no, maggiore implementazione. È normale che l'utente chieda una maggiore implementazione. Notifiche, parte sinistra, parte destra, centro di controllo, un po' iPhoneano, se vogliamo, se mi concedete il termine. Andiamo infine a parlare della parte multimediale. Sì, perché la fotocamera è uno dei suoi punti di forza, perché abbiamo i 50 megapixel, perché abbiamo l'HDR, perché abbiamo l'intelligenza artificiale, perché abbiamo il grandangolo a 12 megapixel, che ci fa perdere un po' di risoluzione, ma chi se ne frega, perché tanto noi sono sicuro che utilizzeremo sempre il teleobiettivo a 50 megapixel. Guardate questo teleobiettivo, che si spinge a 50 per, guardate, riesco a vedere nel dettaglio l'occhietto vispo di Bumblebee e questo è il risultato. Bumblebee è laggiù e questo è l'ingrandimento. Siete pronti per vedere come vengono le foto? Intanto vi dico che la selfie cam è da 50 megapixel, anche quella ovviamente non mantiene le aspettative delle cam principali. E come vengono quindi le fotografie? Beh, innanzitutto voglio farvi vedere questo, fotografie normali, che vengono già bene di loro, ma se questo è quello che può fare, bene o male, qualunque telefono, guardate cosa riesce a fare Honor 200. Tutti si mettono in posa questi animalini pronti per essere catturati. E vi faccio vedere altri scatti, grazie anche alla modalità ritratto e alla modalità magari 2.5x che ci fa arrivare vicino, ma anche fa sfuocare quello che sta dietro e ci fa piacere, perché tutte queste fotografie sono degne di un camera phone. A parere mio, lui se la gioca, soprattutto nella sezione tele, perché nella sezione normale magari se ne può parlare, ma sul tele, ragazzi, lui spacca di brutto. Sulla notte, bene, ma foto alla luna, visto li ho provati un po' tutti ultimamente, mi ha convinto di più Realme GT 6. Quello, foto alla luna, mi sono piaciute di più, ma al di là di questo, devo dirvi che le fotografie con questo Honor 200 sono spettacolari. Per quanto riguarda i video, 4K a 30 frame per secondo. E allora cari amici, siamo al capitolo finale. Considerazioni e prezzo. Quanto costa l'Honor 200? Ho scelto la versione più pompata, 12 GB di RAM, 512 di archiviazione e questo costa circa 500 euro, sia sul sito ufficiale, sia su Amazon. Tanto vi manderò tutti i link sotto, qui in descrizione, eventuali codici per abbassare il prezzo. Insomma, 500 euro per un telefono che è veramente completo. Gli manca la ricarica wireless, gli manca la certificazione IP68, ma si ricarica a 100 Watt, ha una back cover anti-urto, anti-graffio, tutto curvato su tutti i bordi e oltre ad essere un telefono 5G, ha una ricezione sopra la media, ma oltre a tutto ciò anche una super fotocamera. Non tanto quella principale, che ormai è ottima su tutti i medio di gamma, ma questa tele obiettivo, che vi fa fare dei bocchè, dei ritratti, arriva vicinissimo al soggetto, anche a distanza, fino a 50 per di zoom. Insomma, un telefono che a me è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere quello che ne pensate, vi lascerò tutto in descrizione, iscrizione ovviamente al mio canale, spolliciate tanti like che voglio a questo video, ma seguite anche offerte Smart Italia, che si trova su Telegram, che si trova su Facebook. Ogni giorno, tante promozioni e codici sconto sulla migliore tecnologia. Ci vediamo lì, ci vediamo sul canale, alla prossima. Ciao!